Orientamento scolastico, anche l'esercito italiano in prima linea. È tempo di orientamento scolastico per i giovani ragazzi e ragazze di ogni ordine e grado che in questo momento stanno conviendo scelte importanti per la loro vita formativa e professionale. In particolare, gli studenti in uscita dagli istituti di formazione di secondo grado dovranno scegliere se inserirsi nel mondo del lavoro, ovvero proseguire con gli studi universitari. In particolare, fino al 9 febbraio 2017 sarà possibile partecipare al concorso per l'Accademia Militare di Modena per diventare un ufficiale dell'esercito, un comandante di uomini, chiamato a collaborare in team e a ricoprire incarichi manageriali. A seconda del percorso formativo scelto dal candidato, sarà possibile conseguire la laurea in scienze strategiche, in ingegneria, medicina e chirurgia, con il livello di qualificazione più elevato. Un'altra opportunità è offerta dalla scuola sotto ufficiale dell'esercito. Con la frequenza del corso triennale, porterà il giovane studente a diventare maresciallo comandante di Plotone, avendo compiuto un percorso formativo che risponde all'esigenza di creare dei profili professionali che assomano in sé sia competenze umanistiche per una corretta gestione delle risorse umane, sia tecniche per l'ottimale utilizzo degli strumenti tecnologici, conseguendo una laurea di primo livello. Il generale Mauro Prezioso, comandante territoriale dell'esercito in Puglia, evidenzia che la risorsa umana resta fondamentale per l'esercito italiano. Pertanto risulta necessaria una selezione rigorosa affinché la Forza Armata possa valersi di uomini e donne che, attentamente formati e addestrati, assicurano alla collettività nazionale quelle capacità operative necessarie ad adempere a tutti i compiti assegnati in patria e nello scenario internazionale. Il mio comando continua il generale Prezioso e parte attiva nel prospettare agli studenti quali siano le varie possibilità formative e professionali offerte dall'istituzione. Ciò attraverso apposite conferenze ed orientamenti tenute negli istituti superiori. Possibilità formative che preparano giovani cittadini forti e motivati che hanno voglia di mettersi alla prova in incarichi operativi e di comando e al tempo stesso desiderano assumere responsabilità crescenti nei confronti dell'istituzione e della nazione proseguendo gli studi verso traguardi d'eccellenza e ottenendo sin da subito un'indipendenza economica. Grazie a tutti!